Ciao a tutti, noi siamo del Ciu Revolver e questo è il nostro primo video in cui ci presenteremo. Allora, innanzitutto siamo due ragazzi di... io ho 14 anni, io ho 12 anni, faccio la seconda media, vabbè io ho 14 anni e frequento il primo superiore al liceo scientifico e ci siamo... questo video lo facciamo per presentarci. Allora, vabbè come abbiamo detto abbiamo il 14 anni, lui 12 e abitiamo in una piccola provincia di Terramo in Abruzzo. Allora, io mi chiamo Matteo e i miei hobby sono innanzitutto giocare a cacchetto con i miei amici, stare al computer e pratico il karate con il mio amico Lorenzo e io fino a poco tempo fa giocavo a calcio ma ora ho lasciato per praticare karate. Allora, anche io gioco a cacchetto ogni stand con i miei amici. Allora, in questo fondo vedete un video di... cioè, stiamo giocando in live, a battito il 3, questo live, in cui ora sto usando la classe assalto con l'MP7. Allora, su l'MP7 ho mandato il mirino cobra e il caricatore a prendati perché con solo 21 colpi c'è poco, è... cioè, l'MP7 è un grato alto e con 21 colpi li finisce in poco tempo. E poi ho il mirino laser per... guarda qui! Oh, doppia! Per... rossa, rossa, dov'è, 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 dov'è? Per... per il mio laser serve... quando non miri per avere una... per rossidere con... con facilità, c'è, per... senza che miri... c'è, più, non so questo che... a vera... dai, va bene. Perché non lo sapesse, il mirino cobra è quello a formalità, adesso lo stiamo facendo vedere il mio amico. Allora... allora, il mio amico qui si occuperà di FPS, tipo code, battlefield... ehm... invece io mi occuperò di video di computer, Minecraft... ehm... e come risolvere il problema del computer e come scaricare delle cose... per chiunque me lo chiedesse... io... vedrò di fare di video. Eh... se volete qualche consiglio potete lasciare un commento sotto al video. Eh... allora... ehm... per chi non lo sapesse... ehm... infatti, quindi, ci sono... ehm... quattro classi. La classe assalto, in cui c'è un medico che poi, grazie al defibrillatore, puoi... puoi curare. E... ehm... oddio... ehm... puoi curare. E con... ehm... kit medico... ehm... Con... allora, con il defibrillatore puoi rianimare i compagni. E con il kit medico, questo qui, puoi curare i tuoi compagni. I tuoi... oddio... i tuoi compagni. Allora, poi c'è la classe... ehm... questa qua, ingegnere. Eh... in cui... ehm... ci sono probabilmente... ehm... ehm... armi anti... Carrot... ehm... antiricolo. 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 Scusate, questo è il nostro mio commentary, se non ti apropolisci. Poi c'è la classe supporto, in cui... ehm... puoi donare munizioni. E... c'è la classe scout... ehm... c'è la classe più individualista, perché... è un gecchino. Fa... fa tutto da solo. La... la mia modalità preferita è lo scout. La classe. Eh, la classe. Eh, la classe. Eh, lo scout. Scusate, ma io non... non... non mi intendo molto di FPS, perché... ho cominciato da poco a giocare con... la Xbox. Eh... invece la mia è l'assalto. Come diceva... infatti Matteo... eh... da pochi metri Xbox... ehm... infatti quanti giochi hai? Tre. Tre, quattro, sì, tre. Invece io ne ho una quindicina. Se volete possiamo fare anche una piccola recensione dei nostri giochi. Eh... ehm... oh, non c'è chi... Allora... ehm... io ho anche il Kinect, come ho anche Matteo. Oh, il Kinect. Eh... che giochi hai nel Kinect? Io ho... Kinect Adventure e Kinect Sport in stagione 1. Invece... Lorenzo? Un po' di scusa. Invece allora... io ho Kinect Adventures, quello la... quel gioco che c'è... che c'è già dentro... Kinect. E poi ho... Josh Dance 3. Eh... Josh Dance 3 è un gioco di ballo, come sapete. Giusto per divertirsi. Uh... Uh... Oh... Ho il G7 molto forte perché ha un... ha un... alto ratio. Uh... dove... dove... ma... Uh... Uh... ci sono. Uh... Uh... Noi vi diamo un abruzzo in provincia... No, oggi è una... Ah... Ah... Ho tutti i fail in questo video. Ah, vabbè, lo pubblicheremo lo stesso, dai. Uh... Eh... Eh... Questo è il nostro primo video, scusate... Scusate... Eh... Oh... Allora... Qual è il tuo youtuber preferito? Matteo? Eh... Il mio... È... Smurri... Perché... Fa video di... 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 Minecraft che a me piace molto. Eh... Anche i giochi horror, tipo... Nepia... Penundra... Ti piace i giochi horror? Non li conosco, quindi... Eh... A me invece il mio preferito è... Johnny Creek... Di... Mena godo... Eh... Il primo... Eh... Il primo video di Youtube... Eh... Che ho visto è stato il suo... Eh... Mi ricordo di... Mone e Wester 2... Johnny... Eh... 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 Perché non conoscesse questi judy tubers? Eh... Vabbè... Quasi tutti conosceranno... Eh... Beh... Però... Gli andessero a cercare... Si... Si... Si iscrivessero la loro pagina... Oppure metterebbero un gioco di pubblicità... Eh... Noi... Se abitiamo karate... E... Possiamo fare anche dei video... Non so... Di... Eh... Dei tecniche principali... Qualcosa... Così... Eh... Allora... Io... Eh... Abbassati... Noi... Sono a livello... Ma che schifo... Faccio schifo... Sono a livello... No... L'alleato... L'ho ucciso... Sono... A livello del colonnello 1... Eh... La prima stella... Prima... No... Aquila... E... Beh... Per chi... Ancora... Dove... Si... Deve comprare un gioco... È... Indeciso... Tra code... Butterfield... Cioè... Sicuramente... Butterfield... Ma... Ma... L'ho comprato... Perché... Eh... L'Activision... Va uscire ogni anno... Un code... Ma... Fatto proprio con i piedi... È sempre la stessa cosa... Perché... Allora... Con Butterfield... C'è più... Gioco di squadra... E... La grafica è sicuramente... Migliore... Invece... In God... Il gioco di squadra... Cioè... Possiamo dire che... Proprio non c'è... E... La... La... La grafica è vecchissima... Quindi... È... Un pochi... Butterfield 3... Ha... Il motore... Grafico... Frost Fight 2... Se non sbaglio... Molto bello... Eh... Tango ora... Butterfield... Costerà... Poi... 39 euro... Anche di meno... Non so... Non so... Oh... Io... Mi devo comprare... Il premium... Ah... Faccio il premium... Fra un po' penso... Ehm... Io invece... Mi dovrò comprare... Butterfield 3... Fra un po'... Così potrò giocare... Anche io... A prenderci un po' la mano... Che... È festivo... Quei giochi... Io... Io ho... L'Xbox da un mese... Ehm... Invece io... Il mio primo gioco di guerra è stato... Call of Duty 2... Ehm... Ehm... Qualcosa... Red... Trap Station 2... Ehm... Call of Duty 2... Red... Beh... Non mi ricordo... È da tanto tempo che gioco... E comunque è grazie a quello che ho imparato a giocare... Ehm... Avevo 7 anni... Cioè... Giocavo un gioco... Di 18 o più... Ehm... Invece il tuo primo gioco qual è stato? Il tuo primo gioco... Ti ricordi? Di guerra anche... Hai mai avuto un gioco di guerra? Sì... Giochi di guerra ne ho avuti... Però... Non ricordo... Quali sono... Ehm... Io principalmente ho comprato molti giochi per la Wii... Perché... Ehm... Prima di comprarmi... L'Xbox... Ehm... Avevo la Wii... Ehm... Ho comprato... Ho un gioco di guerra che si chiama... Medal of Honor... Ah... Sì... Ehm... E altri... E altri giochi di guerra... Medal of Honor... Ehm... Allo stesso... Sviluppatore... Lo stesso sviluppatore di Batman... No... Sì... Invece... Questo è il tuo primo... Il tuo primo... Il tuo primo bonzollo da portato... Che ero, no? Il primo bonzollo è stato la... Bestitution 2... Invece la mia... È stato il mitico Nintendo Advance... Ehm... Game Boy Advance... Ehm... Il primo... Il primo gioco è stato... SpongeBob... Ehm... 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 Come diceva il mio amico... Il... Game Boy Advance... Ehm... Ehm... Il mio progetto è stato... I PS4... L'ho ricominciato per... Minimo... 10 volte... E l'ho finito... E poi ho comprato la PS2... E poi ho continuato... La PS3... E adesso... La Wii... E poi... Adesso... La Xbox... Ehm... Io ho... Anche... Ho... Se volete... Allora... Ho... Il Game Boy Advance... End of DS Lite... DSi... E la PS2... E la PS2... E la Xbox... E la Wii... Ehm... Invece tu... C'hai... Ehm... Allora... Il Game Boy Advance... PS2... Nintendo... Ehm... Nintendo... Ehm... DS... DS... Nintendo DSiXL... Ehm... Ehm... X... La Xbox... E la Wii... Allora... Noi... Ehm... 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 Va bene... Ehm... Allora... Ehm... O voi... Quanto sto... Terzo... Bene... Qui... Terzo... Allora... Quest'anno è molto forte... Ma... Do... Dove... Dove... Dove sei già in una scondita? Dove... No... No... Ehm... 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 Dai... Manca... Dai... Un altro minuto... Ehm... Ehm... Matteo... Se volete... Cioè... Scrivete... Se vi serve tipo un gioco... Dove scaricare... Qualcosa... Scrivete nei commenti... E Matteo... Provvederà... A trovare qualche link... Ehm... Tipo... Per scaricarlo con Torrent... Non so... Qualmune... Va bene... Spero che... Questo video vi stia piacendo... Ora siamo... Siamo giunti... Alla fine... Ehm... Se vi è piaciuto... Ehm... Mettete... Un bel mi piace... E... Commentate... Ciao... Alla prossima... Ciao... Ciao...